salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale io sono grace proseguiamo la nostra avventura con il gioco dei tecnomantes ok allora amici nella puntata precedente abbiamo beccato i bastardoni che volevano appropriarsi di alcune reliquie qui nella nella cupola dispersa abbiamo affrontato i cattivoni e li abbiamo sconfitti ok quindi proseguiamo ok vediamo un po cosa ci si prospetti in questa puntata allora perlostiamo innanzitutto un po la zona anche se dovremmo andare dalla parte opposta ma è giusto controllare tutto prima che magari ci sia qualcosa di nascosto stile can't believe Alan was here talk about climbing the corporate ladder right there's another alpha technomancer of abundance how can he vouch for victor the man who caused the death of our great master I knew Alan was ambitious but to that extent that boy's always been an envious little deviant I'm sure he was eager to do you remember how we prank you back in school like when Scott I'd rather keep my embarrassing childhood stories to myself oh but it was him not there will always be men who will sell out for voting rewards give him a medal a pompous title and he'll ask you where and when to turn in his mother this infection of uncurved greed happens even among you just look around you've seen the pen some of the guardians are mutants themselves and they can be the harshest of them all disciplining for the sake of breaking in their batons tell your rival a lesson now we should know better than to run after you I know Alan it'll only get worse at least we found some information even if we can't read it how's your ancient hieroglyphics Zach no I can't nobody I know can except great master Ian it's a coded language that's nearly impossible to learn Dandolo will find you a translator let's hope it's worth it and not something boring like a soup recipe we should be relieved you saved the tablet I can't imagine what the traitor would have done if he got his hands on it even if he could read it himself ok ragazzi quindi dobbiamo raggiungere Dandolo e comunicargli della missione che abbiamo svolto ok Sakurai come come a moment please if you will you wanted to see me yes yes I've been expecting you I saw a young man with with a missing arm that I knew no from somewhere you know lucky if memory serves correct yes and you did as well started your apprenticeships together but in that life he carried the name Andrew and like you he came not from a family of techno that says either starting to ring a bell it was an accident to yes indeed he was simply too powerful to instruct filled with an overabundance of fluid we did not know how to control so he overloaded destroying part of the school wounding you losing his own arm I always believed he died that day we acted in haste out of fear to hide our incompetence having never seen such power before let alone from a child so we stole him away spread rumor he had died and paid a merchant to care for him one who gave his word that he could find a teacher able to instruct the child on how to master the fluid and so Andrew was taught how to control his fluid but never how to utilize it into technomancy ever again and you think he still resents you for it would not you would not we all which is why we must help him now become the technomancer he might have been had we not failed him but without his arm how could he use his abilities arms are merely slaves of the head so long as you have a head you have a hope and though at times first impressions can be deceiving it appears you have not lost your head hope is not lost good prosthesis bypass circuit Scott a man needs time to think youngsters are always so impatient did I ever tell you about the time when I was a medical intern I infiltrated someone's biceps to see if forget it it's not even related to the conversation mr seeker whatever you can do to fix our mistake I would be for ever obliged we'll take care of it thank you Connor ok quindi ragazzi questo qui senza un braccio non è nient'altro che uno dei mendicanti che abbiamo trovato al mercato forse magari quel pezzo libero ho tagliato perché era un discorso un colloquio mentre stavo effettuando un trasferimento comunque ve l'ho spiegato precedentemente era una missione secondaria che appunto abbiamo trovato dei mercanti e fra i mercanti c'era questo ragazzo senza un braccio che voleva parlare appunto con il questo tizio qui che abbiamo appena parlato vediamo un attimo se la trovo allora forse questa se forse era questo qui un amico ritrovato comunque una missione secondaria andremo a sviluppare oppure magari le andrò a sviluppare io in privato ragazzi ok andiamo a parlare con dandolo dandolo vediamo un po cos'è che ha da dirci allora l'attacco del convoglio d'aurora trova un tradotto trovo un tradotto all'attacco del convoglio d'aurora tu vuoi attacchare un convoglio per riuscire una guerra? tu sai quanti persone dieci in queste guerra? quanti sono mutilati? prendendo un preso? non nemmeno ma credo che ho una idea clare di numeri ogni battaglia ha il corso, Zechariah Mansur l'Abbondanza ha combattato aurora per anni per più potere senza l'idealismo che le loro filosofie sono più diretti che aurora noi non ci combattiamo le corporezioni per loro per loro ideali ciò che facciamo, facciamo per il nostro corporezionale per il corporezionale dei misfiati di Mars per il corporezionale, per il corporezionale, per il corporezionale noi combattiamo per quelli che trovano una casa con noi per quelli che ho prometto per protegere questa missione ti preoccupi, e ho capito, ho capito questo è per questo che non ti chiedo di attaccare i tuoi vecchi fratelli in armes ma invece di portare solo le stagioni che hai fatto molti volte prima sotto una domanda diversa non c'è niente da rispondere, ha finito il porto vuoi attaccare un convoy per riignire un... non c'è niente ok ok allora, altre cose da chiedergli e trovo un traduttore non c'è niente di qualcuno un renegato di tipo, che ha lasciato Shadow Lair per diventare un hermit la parola era, però, che i tuoi primi comrade lo capturarono se si riesce a scendere quello che era è probabilmente un captivo in uno dei loro campi di lavoro e arrivare a lui non sarà facile esattamente ma, se vuoi il tuo documento tradizionale potresti solo trovare un modo ok ok quindi vai al campo di rieducazione, ragazzi ok ok ecco ecco mi chiedevo mi chiedevo mi chiedevo mi chiedevo ma mi fa nervoso per lasciare te tagliare se siamo e ti lasciare le tue emozioni riusciano con te è la mia vita che rischia mi chiedevo mi chiedevo mi chiedevo mi chiedevo mi chiedevo in situazioni pensate tutto ci vuoi ma sono la persona che conosce questo campi ricordi? sarà più pericoloso per te andare in senza me va bene intanto ci vanno a portare dietro lo stesso allora viaggiamo viaggiamo qua cosa ci aspettavamo in questo campi? giudando la faccia di Nisha non è qualcosa di bello mi chiedevo mi chiedevo mi chiedevo mi chiedevo cosa stai pensando è una tante volte più pezzi stai 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 ma non sono chiamati non sono più come prigioni dove il primo è rompere le spirito e destruire la libertà loro prodotti sono subito e loro i 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 can get Dandolo to send a rescue team It wouldn't be the first time he's done that If Dandolo can bring the manpower We can bring the diversion We'll free them Ok ragazzi siamo arrivati Vediamo un po' cosa ci si prospetta Da quello che han detto non presuppongo nulla di buono Anzi ci sarà da spaccare le chiappe Più non posso No, speriamo I combattimenti sono una figata No, devi troppo rimanerci Figlia che pacca Ho migliorato alcune specifiche tecniche ragazzi E devo dire che sono molto utili Un po' la schivata Abbiamo più tempo per Per scappare Anche per quanto riguarda i colpi Dei fucili Dei nemici Abbiamo un po' più di tempo Ok Allora Braccattiamo tutto Sì, sì, prendi tutto Ok Adesso vi diamo un'occhiata anche alla mappa ragazzi Braccato il cadavere in giro Sembra di no Però c'è un altro rompiscato Ottimo Ottimo Ok Allora, vediamo un attimo Noi dobbiamo andare là Di là esattamente Quindi Facciamo il giro di qui Così Vediamo un po' Sì, sì Prendi tutto L'ho visto uno scrigno Passiamo anche di qua Così vediamo se c'è qualcosa di nascosto No Mi sembra di no Vediamo se riusciamo ad attaccarlo In modalità stealth Ah, ma mi colpo che gli abbia andato Non è servito niente E proprio Ci aveva scattuta Questa tutta il cazzuto Dai Vieni Questo è andato Ti ha colpiti lo stesso Morici malamente Ottimo Ancora ce n'è? No Ok Meno male Meno male Sì, prendi tutto Dai Stivali Non stivali Ok Qua Resta un nostro Scrigno Ottimo Dei tritti metallici Robini Yes Yes Allora L'ho visto Al cos'altro Andare ad aprire Qua Esattamente qua Yes Vieni c'è un modello di roba Da prendere ragazzi Buono Buono Qui sta Qua ad altro Non vedo Neanche nascosto Ok Dobbiamo andarla Sul lato destro Ok Ho visto questo Yes Prendi tutto Allora Visto che noi Dobbiamo andare Di là Speriamo a passare Anche di qua Che modello è ragazzi Sta diventando Veramente cazzuto Questo bastone Come miglioramente Allora Si prosciuga Perché possiamo Prosciugarli Ok Dieci di siero Niente male ragazzi Ottimo Ok Manca questo qui Perfetto Controlliamo qua Il baule Yes Ok E proseguiamo Proseguiamo Cazzuti cattivi Come sempre Allora qui Non Giacca da te Ottimo Ottimo Qui non possiamo salire Però ragazzi Perché la scala È ancora Alzata Quindi per forza Dovamo fare il giro Dalla parte di là Ok Andiamo 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 Ok 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 non è normale, devi troppo rimanerci ok, prendi tutto chiede agli zebedei che dobbiamo passare ottio ok, allora vediamo un po' abbiamo un prigioniero messa lì sulla sinistra forse conviene usare la chiave ah, ecco la chiave che abbiamo preso a livello 3 assolutamente non possiamo farlo quindi dobbiamo usare la chiave lì ho visto qualcun altro quindi conviene andare magari a seccare il tipo qua non credo che riusciremo aspetta, l'abbiamo fatta pure, è una verità stessi, ce l'abbiamo fatta grande, grandi pesi ottimo, direi ragazzi ottimo scattiamo il todos yes ok, ma allora vediamo un po' di lì andiamo in un'altra sezione quindi api prendi tutto ok quindi quindi iniziamo a aprire queste queste celle qua diciamo che è proprio questa porta perché non abbiamo la chiave eh quindi con la chiave che abbiamo trovato è di un'altra cella allora scassinare non possiamo scassinarle tanto la facciamo quindi dobbiamo proseguire alla ricerca dell'altra chiave allora ecco la prima chiave che abbiamo preso va bene però non possiamo aprirle è pure opzionale questa cosa ottima quindi non è servito un ammazzo allora di qua ok questo mi sa che c'è rimasto malamente sì adesso non possiamo aprirla possiamo fare una mazza ragazzi uso la chiave va bene ok o forse la chiave era per liberare questi qua c'è ancora uno per liberare lì lì no non se ne era accorto non se ne era accorto andiamo lì sotto perché andiamo comando pure una sigla non se ne era accorto ok sì era catta era catta allora allora che c'è da cecchino ottimo direi vediamo un po' abbiamo uno di là deve essere qua dietro deve essere qua eccolo qua sì allora la chiave che abbiamo preso è la chiave che serve sì le celle che dobbiamo aprire anche se è opzionale però dovremmo molto ovviamente trovare anche un'altra chiave presuppongo ragazzi presuppongo ok 4 di 6 vediamo un po' eh ci sono sempre quei due là che non riusciamo ad aprire che non siamo riusciti ad aprire perché non avevamo la chiave non abbiamo lo scass dal livello scassinazione a livello 3 quindi non possiamo ok non troviamo una chiave non è detta l'ultima parola ragazzi mi sa che potrebbe essere una sala per il lavaggio del cervello o quant'altro andiamo dentro a vedere ok 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 questo livello di scassinazione ragazzi abbiamo chiave delle celle ottimo Quindi molto probabilmente abbiamo trovato anche la chiave delle altre celle, andiamola a provare subito ragazzi, così, liberiamo subito anche gli altri, sempre nella speranza che sia giusta. Vediamo, vediamo. No, non è neanche questa, vada lì c'è, e non è neanche questa, ecco, non dava strano che sono così fortunati. Allora, vediamo un po', vediamo un po', che l'ho visto anche un punto di domanda. Ok, siamo sempre giù cazzuti ragazzi, ecco infatti, poi siamo pure aumentati di livello. Ottimo, cerca, cerca, vai, perfetto, poi ci salta fuori una bella armatura, ne sa, eh. Ok. Ah, di qua, un altro macchietto da scassinare, ottimo. Sì, sì, prendi tutto. Chiave delle celle, oh, meno male ragazzi, abbiamo preso anche quella, allora. Andiamo, andiamo, andiamo. Dovrebbe essere la chiave di queste celle, spero, eh. Così, vediamo anche questi. Vediamo se è questa, yes ragazzi, yes. Ottimo. 5 di 6, andiamo a aprire anche l'altra. Perfetto. Ok, cosa ci manca adesso? Libero i prigionieri, i prigionieri, ok. Trovo il modo per far fuggire i prigionieri, è opzionale. Dunque, vediamo un attimo. Ci manca andare lì dove c'è il punto di domanda. Ok. Che sarebbe indietro e poi andare sulla destra. Qua. Qui, mi sa che scatta le riffs ragazzi. Beghe, è bello cazzuto. Dai che ci devi troppo rimanere. Ehi, ha una martellata in te, mi ha dato. Eh, anche qua è andato, ottimo. Cerca. Oh, cerca. Ok. Dambini. Siero, siero. Qua si paga tutto in siero. Allora, prima siamo entrati di lì ragazzi. Adesso andiamo di sopra, vediamo un po'. Siero scontro. Siero scontro. Sei... Charles Seeker? Perché? Qui sei? Comeのは un'impostico? È me, Charles. Scotto? Tu ricordi me? se? scott? sì, sì, certo scott, mio amore scott, perché ti... si ti... si ti arrestano anche? i tanti struendo la progettazione, stacchendo tutto ciò che... potrebbero migliorare per il vero loro... il professore è in forma di scott, bisogna help... Sì, è... ...too late...too late... ...to aiutare a me, young man. Ma la mia ricerca... ...il deve proteggere la mia ricerca. Non lo lasciarli capire. Non lo lasciarli... ...non lo lasciarli... ...dia... ...fri... Cioè, questo qui è morto, diciamo, venuti a salvarlo e questo è morto. È così? Eh? Sono stati così sfigati? Eh? Non c'è proprio di sì. Comunque, sta vicenda, appunto, vediamo se riusciamo a trovare... ...il tizio... ...che c'è rimasto. Va bene. Allora... Quindi, molto probabilmente, abbiamo rintrecciato il nostro... Ah, non si può aprire, strano... ...il nostro tizio e... ...lo vediamo un po' la mappa. Allora... ...il nostro tizio... ...è un po' la mappa. 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 ...e un po' la mappa. ...e un po' la mappa. ...e un po' la mappa. ...andiamo, andiamo. Allora... ...e... ...diamo fuori uscire. Qua, come abbiamo visto, non si apre. Sì, adesso si apre. Ok, quindi ci mancava solo di parlare con il tipo. Ok. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Non mi importa dove mi portate, ogni quale è meglio che la città. C'è un po' come la morte in là. Non so cosa dire. Mi sento... scusato? E da abbondanza. Ma cosa faccio per le persone in là? Inhumani! Le tecniche che hanno usato in questo campo sono basi sui reali scientifici. Tutto è stato designato. Penso che questo è uno dei giorni dove non apprecia i nostri amici. C'è un po' come la città, la città e la medicina. Non puoi farlo per la ricerca, Zag. La scuola si tratta sui quelli che usano il peggio. Qualcuno può arrivare da le migliori intenzioni. La maggiori non si tratta di più tardi. È da dove la esperienza si tratta. Pensi che anche l'Ophir sembrava come un paradiso dopo aver guardato questo posto. Mi sono grattato, però, perché abbiamo deciso di salvare un po' di sole. Ok, Nisha? No, non davvero. Non voglio parlare di questo momento. Mi sento che il posto potrebbe causare alcuni ricordi. Mi sono scusate, Nisha. Nisha. Questo è Patience, il tecnomancero che mi ha detto. Ah, buono. Noi. 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 li abbiamo dato. Vediamo un po' le altre missioncine, ragazzi. Quindi. Ok. Quello lì. E questo qui è fatto. E questo dobbiamo ancora equipaggiare la squadra con un uniforme dell'ufficiale di Abdans. Va bene. Ok. Va bene, amici. Io direi che il nostro episodio termina qui. Spero che la nostra avventura vi sia piaciuto. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se è piaciuto il filmato, lasciate un bel like. Vi ringrazio per avermi seguito. Ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GraceGamer78.